H&M Gigi Proietti, laboratorio, lui aveva scelto molto fisicamente i suoi allievi, che ne so, primo attore, Flavio Insinna, antagonista, Enrico Brignano, bello attore, Salvatore Palombi, caratterista, Gabriele Cirilli. Io avevo creato questo gruppo, i tre, io, Enrico e Flavio, poi chiaramente quando inizia la vita quella vera, fuori dalla scuola, è la morsa tua, vita mea. Con Enrico c'era tanta tanta amicizia e poi il successo a lui l'ha portato proprio verso una strada di... Mi sono spiegato. No, ma lo direi anche davanti a lui, nel senso io gli voglio molto bene. Ciao Enrico, come stai? Scusa, sto facendo un rogito, ciao. Ah, vabbè. A ogni chiamata sto facendo pure oggi un altro rogito, a un certo punto. Non è diffamazione questa, la verità.